Questa sera, questa sera, tutti in pasta! Tutti in pasta! Questa sera, questa sera, tutti in pasta! Tutti in pasta! È arrivata, è arrivata, è arrivata la pasta! La finale delle contralle di Barzio! E quest'anno di contorno alla pasta, idea rivoluzionaria, bello per voi, zero sbatti per noi. E adesso tutti insieme il motto della serata. Tutti tutti tutti, impasta, 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 impasta. Venghino signori, venghino a prendersi un bel piatto di pasta, ultime porzioni rimaste. Oh, ecco il signore, mi dica. Potrei avere due piatti? Ma certo, prego, siamo qua apposta. Ecco, ci sono due piatti. Mi dica, cosa ne pensai di questa iniziativa? Eh, cavolo, stai dentro un casino. Oh, davvero? Non ho pensato, sai, un po' di pasta. Beh, a volte la vedete la pasta. Ma c'è bella, bella. Oh, grazie, grazie, grazie mille. Salve, arrivederci, buon appetito. Sì, ma non se la mangi con le mani. Abbiamo le forchette, signori. Eh, troppo buona, c'ha ragione.